Mi presento la formazione del Matalanta Con numero 47 Andrea Consiglio Con numero 28 Davide Premio Con numero 23 Mario Con numero 2 Muni Elmo Stand Up Con numero 29 Con numero 77 Cristian Raimondi Con numero 18 Davide Davide Con numero 17 Carlos Garbona Con numero 10 Giacomo Buonaventura Con numero 11 Maxi Buonale Con numero 37 Giacomo Dugg�� Leale 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 Le help Leal Leale Grazie per la visione!